Ciao la gente, benvenuti finalmente in questo nuovo video, ma anche nuova serie. Come vi ho anticipato, sì, sarebbe uscita una nuova serie e l'avremo iniziata. Una serie comunque diversa dal solito, perché questa serie, se vi piace, la continueremo dal primo episodio fino all'ultimo. Quindi vi invito subito in questo momento a lasciare like se vi piace questa cosa. Piccola premessa, perché c'è molto da dire, però è anche vero che c'è molto da scoprire, quindi vi dico giusto un paio di cosette. In questa serie dovremo iniziare ovviamente da zero e non saremo soli. In questo mondo ci sono delle entità che abbiamo già visto, ma queste entità sembrerebbero essere in pericolo. E stanno combattendo contro un'altra sorta forse di dinastia o comunque ecco altre entità. Il nostro obiettivo sarebbe ecco entrare a far parte di loro di questa dinastia e ovviamente combattere. So che non vi sto dicendo molto, ma forse è meglio se entriamo in un gioco e iniziamo a creare il mondo, perché c'è molto molto da fare. E ok, eccoci qui infatti nel mondo appena generato. Nuovo mondo, nuova avventura, fatemi sapere se vi piace perché questa serie la vorrei portare dall'inizio alla fine. Un episodio massimo due a settimana, quindi sia venti minuti di video circa, quindi circa due ore di gioco, forse un po' meno, forse un po' di più, non lo so. Però questo è quanto. Direi che possiamo subito iniziare prendendoci le cose nella chest bonus, perché siccome facciamo di solito, ecco. Prendiamo le cose nella chest bonus quando iniziamo un mondo e... Sembrerebbe un mondo normale, giusto? A parte forse qualche piccolo dettaglio non molto normale, all'apparenza questo sì, dovrebbe essere un mondo normale. Ma in realtà so cosa c'è qua dentro, lo so bene, forse già dal titolo, dalla copertia, non lo so se avete capito qualcosa. Ma dovremo praticamente scoprire tutto quanto e ci uniremo comunque in una battaglia. Almeno l'obiettivo sì sarebbe, ecco, entrare a far parte di una dinastia e ovviamente combattere i rivali. Una dinastia si dovrebbe scontrare con degli spiriti, come se fossero degli spiriti, ecco. Non vi dico altro anche se forse avete già capito qualcosa. Io direi che a questo punto però è cosa siamo adesso, dei semplici giocatori deboli. Dobbiamo solamente cercare di scoprire qualcosa in più, dove stanno accadendo le cose strane, se c'è una base. E soprattutto dobbiamo anche trovare un modo per entrare a far parte di una dinastia. In questo mondo così da zero, senza equipaggiamenti, senza poteri, non saprei proprio da dove iniziare. Tra l'altro comunque siamo nella 1.16.5, magari vi lascerò anche il seed un giorno, se non vi dispiace. Dipende sempre se vi ispira questa serie, ma una cosa vi garantisco che all'inizio purtroppo, ecco. Non vedremo chissà cose, però andando avanti riusciremo sicuramente a fare un bel po' di cose. Inimmaginabili e anche nuove. Comunque dai, diamo un ducchiato in giro, al momento il mondo, come vedete, sembrerebbe essere un mondo normalissimo. E il nostro obiettivo è comunque cercare qualcosa di strano. Quindi diciamo che all'inizio è come un altro mondo creepy. Dobbiamo cercare qualche traccia, qualche indizio e riuscire a capire poi qual è il problema di questo mondo. Ce la faremo? Spero di sì. Eh sì, penso proprio che all'inizio sarà comunque molto esplorativo, eh. Qua c'è una palude, come vedete, e qua c'è anche una foresta di Dark Oak. Non lo so, non siamo molto onteriore nello spawn, lo spawn è esattamente tipo laggiù da qualche parte. Però qui non è che ci sia molto. Forse qua è qualcosina, sembrerebbe essersi una casa distrutta qua. Aspettate un attimo, intanto c'è anche una grotta. Che va abbastanza in profondità, meglio se stiamo attenti. Ma qui c'è anche, sì, proprio una casa distrutta questa. C'è strappola anche, forse è meglio se stiamo attenti, però a parte questo, nient'altro. Continuiamo velocemente la cesta, così quasi, ma altrimenti tocca andare avanti. E ok, sono avanti da un pochino, eh. Non siamo proprio vicinissimi allo spawn. Lo spawn dovrebbe essere tipo in quella direzione là, 500 blocchi circa. Stando avanti, non stiamo trovando molto. Qui comunque si cambia bioma, come vedete c'è la, come si chiama? La giungla con le canne di bambù. Nulla di particolare, comunque. Direi che possiamo proseguire ancora di qua e vediamo, eh. Perché altrimenti se non troviamo nulla nemmeno qui, mi sa che dobbiamo cambiare direzione. O forse magari, ecco, attendere la notte e vedere se di notte, ecco, dovesse per caso accadere qualcosa di strano. Dato che sicuramente ci sono delle entità qui, e non poche, ecco. Potremmo avere l'occasione forse di scoprire qualcosa durante la notte. Vediamo, eh, vediamo. Guarda che saliamo un pochino qua sopra, così vediamo se c'è qualcosa all'orizzonte. Sembrerebbe di nuovo, nuovo bioma comunque là. E c'è anche un'altra casa però, due cas... ah no, un villaggio, sì. Altro bioma, ma ci sono anche delle case, sì. È un villaggio questo. Sembrerebbero essere case comunque distrutte. Non so se è normale questo, eh, forse abbiamo trovato qualcosa di strano. Eh, oddio, dobbiamo cercare qualche indizio, qualche traccia di qualche entità, qualsiasi cosa dobbiamo cercare ora. Altrimenti come cavolo facciamo a scoprire di più e addirittura tentare di unirsi a loro. Vediamo un attimo. Qui comunque si è tutto abbastanza distrutto. Stiamo attenti perché mi sa che tanno molto, sarà anche notte, eh. Eh, poco cibo comunque c'è qui. Ma adesso facciamo attenzione e cerchiamo anche di ottenere più cibo possibile perché al momento ne abbiamo bisogno disperatamente. Eh, altra cesta qua, vuota, fantastico. Sì, controlliamo le ceste nelle case, poi non lo so. Forse converrebbe a tenere la notte qui, almeno abbiamo dei letti nei quali possiamo, ecco, dormire. E niente. Tante case distrutte comunque, eh, tante, tante. Ehm, qua c'è anche un po' di pane, delle mele, perfetto. Non male. C'è qualcuno là però? C'è qualcuno? Che cavolo è quello? Sembra ferito comunque. Oh mio Dio, guarda che arma ha! Oh mio Dio, ok. Adesso che abbiate capito. Chi sei? Come chi sei? Nessuno, non sono nessuno io. Parla anche come... Cioè, si capisce così come parlano anche non male. Sembra essere ferito comunque. Non sembra nemmeno essere cattivo, non vuole attaccarci. Tu non sembri un sopravvissuto del villaggio? Ehm, no. Non lo sono, infatti. Comunque questo credo che sia proprio un guerriero, eh. Ma mi sa che l'avete già capito questo, eh. E sembrerebbe comunque essere in difficoltà. Meglio se te ne vai. La mia fine si sta avvicinando. Eh, ok. Infatti sembrava ferito. Meglio se te ne vai. Perché? Chiediamogli perché dobbiamo andarcene. C'è qualche pericolo, forse? Direi proprio di sì. Potrebbe chiaramente esserci qualche pericolo qua fuori. Anche se al momento non mi sembra di vedere niente di particolare, eh. Vi ricordate quello che vi ho detto prima? Sono sicuro che ci sono, ecco, diverse entità. Non potrò più combattere, la notte è vicina. Ok. Ma diciamogli ok. E va bene così. Quindi sì, diciamo che la prima dinastia... Io lo sapevo già, ma adesso lo sapete con certezza anche voi. Sì, ci sono i guerrieri. Ci sono esattamente i guerrieri. Ma ci dovrebbero essere anche degli spiriti malvagi o cose di questo tipo nel mondo. Ma ecco, non sappiamo cosa vogliono, non sappiamo cosa vogliono fare. Chi sono e perché loro sono in difficoltà. Ci deve essere qualcosa che dobbiamo assolutamente scoprire, eh. Allora, dai. Comunque quanto manca notte, effettivamente non ha tutti i torti. Tra non molto, arriverà la notte. Lui resterà alla fermo. A questo punto noi converrebbe scappare via, ma... Io direi che resteremo qui per vedere effettivamente qual è il nemico. Anche perché ora non abbiamo nulla da perdere. Siamo dei semplici giocatori. Non abbiamo nulla dell'inventario di valore. Quindi secondo me potremo, ecco, rischiare ora. Quindi penso proprio che faremo in questo modo. Eh, volevo vedere se c'erano altre chest nelle case abbandonate. Per cercare, ecco, un po' di cibo. Ma non è che ci siamo molto, come vedete. Però già qui c'è qualcosina che potremo assolutamente prendere. Non male. Sinceramente non so dove mettermi per la notte, perché tutte le case sono distrutte. O che ne ripariamo una, oppure magari ci nascondiamo in questa qui, vicino a lui. Così se arriva qualcuno, magari, ecco. Non verremo attaccati noi per primi. Ok, siamo proprio al tramonto ora. È vero, potremmo guardare anche in cielo. Oddio, non credo ci sia qualcuno in cielo. Almeno per ora. Per ora è notte, questa cosa è certa. Lui è ancora lì fermo. Nascondiamoci qui, magari. Tanto comunque ci ignola, non si vuole nemmeno attaccare, quindi... Penso proprio che rimarremo qui. Nel villaggio comunque... Non vedo nessuno. Nessun movimento strano al momento. Anche in cielo no, c'è proprio la luna. Guardate. Che è stato? Hai sentito? Sì. Sì, sì, abbiamo proprio sentito. C'era un rumore strano che proveniva da qui. Prenderanno la mia anima? Eh. Non è bello prendere le anime? Il problema è che non sappiamo chi la prenderà. Però mi sta venendo un po' di ansia, perché c'è qualcuno a queste parti, eh? C'è chiaramente qualcuno qui. Che... Cavolo! Aspettate, sta accadendo qualcosa. C'è qualcosa là, oh mio Dio! Ci sta vincitando qualcuno qua. Sembrava essere uno spirito quello. Una sorta di spirito? Fantasma? Prendi la mia anima, ma la vittoria eterna avverrà. Oh mio Dio! Guardate! Che cappero! Oh mio Dio, l'ha disintegrato! Oh! Ca... Oh no, 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 no. Non farsi del male. Oh mio Dio. Chi è questo? Che ca... Oh mio Dio! Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Che cavolo di effetto abbiamo, comunque. Che cavolo di effetto abbiamo. E questo chi è? Chi è questo? Oh mio Dio! Sono arrivato tardi! Un altro guerriero è caduto. Oh mio Dio, non facciamoci vedere. Non facciamoci vedere. Quello sì, è chiaramente un guerriero. Fa parte comunque di quella dinastia sicura al 100%. Mai visto prima, comunque, eh. Mai visto prima. Che ho distrutto la casa. Però ho distrutto quella sorta di spirito, fantasma, quello che è. Però, secondo me, non ce n'è solamente uno. Eh, guardate, devo andare. Potrebbero arrivarne altri. Non posso rischiare, ok. Ce ne sono altri più forti, quindi. Stiamo già scoprendo alcune cose, eh. E ora se ne deve andare. Cavolo. Eh, però, dovremmo montarci neanche noi, però, eh. Ah, qui c'è qualcosa di utile. Un incudine, no? Qui. Uh. Alla barda del guerriero vittorioso, ok. Una mappa anche. Sì, non mi sembrava il caso di frugare nelle ceste degli altri. Adesso però possiamo farlo. Oh mio Dio. Mappa? Indica il deserto? Io ho visto un deserto vicino allo spawn. Potremmo provare ad andare là. E comunque sappiamo anche una labarda. Non credo che potremmo utilizzare i poteri di questa labarda, eh. Però, meglio di niente. Potrebbe sempre servirsi, chiaramente. Questa mappa, invece, boh. Spero che sia proprio il deserto che abbiamo visto. Che ho intravisto comunque lì. Checca. Effetto strano, eh. Che effetto strano. C'è. Ce ne sono altri, ce ne sono altri. Andiamo via. Andiamo subito via. Ne stanno arrivando altri, effettivamente, eh. Allontaniamoci e vediamo se riusciamo a raggiungere la mappa. Sì, dei strani fantasmi. Con gli occhi... Chiari. Blu. Non si capisce. Blu, viola. Mai visto nulla del genere. Ok. Sì, sì. Avevo visto bene. Quello sembrerebbe essere il deserto. Sì, sì. È proprio quello, eh. Mi sembra di averlo visto, infatti. Eh. Proviamo, dai. Vediamo cosa c'è qui. Questa mappa ce l'aveva il guerriero, sicuro. E infatti siamo entrati anche nella mappa appena adesso. Siamo nella direzione giusta. Non lo so. Guardando la mappa, comunque, non sembrerebbe esserci molto, eh. Sembra una distesa di deserto. E basta. Però sicuramente, se avvia questa mappa, ecco, ci sarà qualcosa. Sicuro. Vediamo di raggiungerla. Ok, siamo proprio in mezzo al deserto, ora, eh. In lontananza, tutto tranquillo. Ma non siamo ancora entrati nel proprio... Eh, no. Siamo entrati adesso, invece. Siamo proprio entrati ora nella mappa. Sentite, c'è una collina qua. Saliamo qua sopra e vediamo dall'alto se c'è qualcosa. Anche se quel qualcosa dovrebbe essere proprio qui. Almeno, spero. Eh, c'è qualche grotta qua, comunque, ma... A parte questo, non c'è altro. C'è anche la savana. Uh, zona strana, là. Zona strana. Sembra sag delle anime. Per la precisione. E niente, savana e siamo qua nella mappa. Proviamo a guardare qua sotto, perché c'era anche una grotta. Potremmo guardare le grotte, forse. Ci deve essere per forza qualcosa qui. Intanto, comunque, finché cerchiamo in queste grotte, vi ricordo il like se non l'avete lasciato, perché siamo all'inizio, ma... Potremmo fare tante cose qui, eh. Non vi dico cosa, ma... Potrei intuirlo. E potrete intuirlo anche voi. Eh, sì, ci sono delle grotte, comunque, qua. Però qua stiamo anche uscendo dalla mappa, quindi... Converrebbe forse... Oh, mio Dio. Struttura. C'è una struttura qui. Sembrerebbe essere una casetta. Potrebbe essere la casetta di quel guerriero. Sì. Potrebbe proprio essere la casetta di quel guerriero. O forse no? Si scende di qua. Oh, mio Dio, c'è un portale, no? Questo è un portale. Questo è chiaramente un portale. Ok. Qua qualcosa che abbiamo già visto. Questa è una combinazione segreta. Guardate, qua c'è il tastino. Precce spettrali per indicare la direzione. Dobbiamo inserire una combinazione. E, in teoria, inserendo combinazione e azionando il tastino, il portale dovrebbe aprirsi e portarci in un'altra dimensione. Almeno questo è quello che dovrebbe accadere. C'è stata una pietra. Sembra la pietra nera, questa. Però, nulla di che al momento. Eh, il problema è che non sappiamo la combinazione. La mappa si chiama mappa. La barda, vabbè, sappiamo come si chiama. Non ci sono codici o altro. Forse dovremmo tornare nel villaggio e vedere se... Magari, nascosto, c'è un foglietto con una combinazione. Di solito, in passato, ecco. Le combinazioni venivano nascoste nei foglietti. In qualche cesta nascosta, ecco. Oppure venivano portate con sé. Eh, che strano i blocchi comunque. Scema tipo una sabbia oscura con... Una parte interna molto luminosa. Che ca... Aspettate un attimo. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Spero di no. Cado, non possiamo diventare invisibili. Non abbiamo nemmeno una pozione di invisibilità. Oh mio dico, è quello di prima. È il guerriero di prima. Che sta facendo? Ah, oddio, sta mettendo una combinazione. Sì, sì. Sta mettendo una combinazione, mi sa. Esattamente. Cap. Non so se avremo altre occasioni, eh. Non so se avremo altre occasioni. Andiamo. Oh mio dico, dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Non ho mai visto questo luogo. Non ho mai visto nulla del genere. Cavolo, siamo in una foresta in una dimensione mai vista prima. Potrebbe essere la terra di quel guerriero. Oh mio dico, è qui adesso? A parte che ci saranno tantissimi pericoli. Però forse non ho potuto nemmeno sentirci, perché non abbiamo il minimo potere noi. Oh cavolo. E adesso? Diamo un'occhiata in giro. Là c'è anche una casa. Una struttura comunque. Un po' pericoloso, eh. Un po' pericoloso qui. Però abbiamo alternative? Non credo. Diamo un'occhiata là. Se vogliamo scoprire di più dobbiamo fare queste cose pericolose, mi sa. Non c'è nessuno. No, c'è qualcun uomo, oddio. C'è una sorta di mostro strano là. Non sembra volersi far male comunque. E tu chi sei? Mi sono perso. Cerchiamo di improvvisare un pochino. Ho trovato... Eh... Questa. Alla barda. Puntini, puntini. Forse... Forse... È tua. Improvvisiamo un po'. Vediamo che si dice. Non avverto alcun potere. Eh sì, non siamo delle entità. Noi purtroppo. Almeno... Per ora. Molto gentile. Non so... Se qui la tua presenza è concessa. Ah. Sì, forse non siamo i benvenuti. Però ecco, se vuole alla barda la possiamo tranquillamente dare. Eh... Eh, la posso dare. Poi... Me ne vado. Facciamo così allora. Però prima di andarsi magari potremo chiedere qualcosina. In cambio di questo favore. Ah, tieni pure quella alla barda. Potrebbe servirti per difenderti. Ah, va bene. Grazie. Ok, non sembra essere molto scortese allora. Ci concede ecco... Di te... Oh, bio... Oh... Questo non mi piace. Spostiamoci. Facciamo finta di niente. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cavolo, è anche ferito comunque. Questo lo conosciamo già. È anche ferito? Quanti ne sono tornati? Questo è un vincitore, per chi non lo sapesse. Un guerriero molto forte. Che ha dimostrato il suo valore. Nemmeno uno. Quanti ne sono tornati? Nemmeno uno. Quanto pare hanno una missione qui, eh. Questa potrebbe essere la loro terra, forse. O una delle loro terre. Sembrava essere dispiaciuto, infatti, oltre ad essere ferito. Vabbè, vediamo che succede. Stiamo qui tranquilli, noi. Non erano pronti. Chi? Forse dei guerrieri. Ah, forse il guerriero che abbiamo visto prima era un guerriero che doveva compiere una missione. Però non è riuscito. Non sono riusciti. Ce ne erano anche altri, forse. Dov'è la tua armatura? Inventiamoci qualcosa. L'ho persa. Ah, crede che siamo dei guerrieri anche noi. L'abbiamo perso in combattimento, possiamo dire. Ecco. Vabbè, potrebbe intuirlo. Raggiungi gli altri. Non dovresti essere qui. Ok. Bene. Molto bene. Molto, molto bene. Lui però sa la verità, eh. Speriamo che non ci faccia scoprire, altrimenti ci disintera. Se scopre che non siamo dei guerrieri o comunque che non c'entriamo niente con loro, ecco. Presto avremo altro materiale. Non possiamo arrenderci. Ok, altra cosa interessante. Quindi loro sono in una sorta di battaglia molto complicata. E non possono chiaramente arrendersi. Ok. Sì, se ne è andato ora. Se ne è andato. Che luogo però questo, eh. E adesso che si fa? Oddio, potremmo chiedere a questo se possiamo rimanere. Magari, ecco. Far finta di essere dei guerrieri o magari diventarlo addirittura. Forse ti converrebbe far finta di essere uno di loro. Là fuori non riusciresti a sopravvivere. Forse nemmeno qui. Ok, ok. Sembrerebbe volerci aiutare. Ringraziamo ovviamente. E penso che sappiamo anche cosa fare allora. Io direi che comunque per questo primissimo episodio è tutto. Siamo solamente all'inizio. E questo è quanto. Concludiamo qui. Ditemi cosa ne pensate. Se non siete iscritti, iscrivetevi assolutamente. Per non perdervi video live e quant'altro. E prossimo episodio in realtà già questo venerdì. Alle 15. Alla prossima quindi. Ciao.